La fortitudo agrigento vince ancora e conserva il primato in classifica. I biancazzurri battono la Virtus Cassino imponendosi con il punteggio di 85 a 75. Nel primo periodo di gioco a fare la meglio sono gli ospiti e Cassino trova canestri giusti grazie a Pepper e Bagnoli. A risvegliare la squadra ci pensa il capitano Marco Evangelisti ma è Cassino a chiudere il primo periodo in vantaggio con il primo quarto che si chiude con il risultato di 16 a 24 e nel secondo e nel terzo periodo di gioco la fortitudo agrigento cambia volto ed esce fuori con determinazione grinta. Nell'ultimo quarto la fortitudo agrigento ipoteca la vittoria. I ragazzi bucano i canestri giusti per vincere mantengono la giusta lucidità e trovano la vittoria. I biancazzurri chiudono la partita con il risultato di 85 a 75. Tra i migliori in campo per la fortitudo è il capitano Marco Evangelisti. Franco Ciani dichiara Cassino viene da una situazione emotiva non facile, non abbiamo iniziato bene, siamo stati poco aggressivi e questo è un vizio che dobbiamo toglierci. Abbiamo avuto difficoltà di entrare in partite, il rischio era l'approccio morbido, la classifica continuiamo a lavorare. Grazie a tutti.